C'è il remake del modello Pilgrim, la calzatura disegnata da Roger Vivier per Yves Saint Laurent che indossata da una giovane Catherine Deneuve nel film Bella di Giorno di Bunuel diventerà la scarpa più riprodotta e più venduta al mondo. Ci sono le reinterpretazioni di Riccardo Tisci per Givenchy che attualizzano nella Donna Gotica e nella Donna Dark lo spirito del marchio legato alla sua icona storica Audrey Hepburn, emblema in colazione da Tiffany della donna controcorrente fuori dagli schemi, o ancora i drappeggi che hanno reso celebri le scarpe ungaro dietro cui scopriamo l'abilità di uno stilista poco avvezzo al disegno nel trasformare una sua debolezza nella chiave di uno straordinario successo. Sono solo alcuni degli esempi del ricchissimo patrimonio storico esposto al Museo Rossi Moda della Calzatura all'interno di Villa Foscarini Rossi a Strane il Veneziano, un luogo che raccoglie l'intreccio di tre storie, quella del distretto calzaturiero della Riviera del Brenta, quella dell'eccezionale percorso imprenditoriale della famiglia Rossi e quella della moda nel suo continuo dialogo con le trasformazioni sociali. Qui ogni oggetto, ci spiega la curatrice Federica Rossi, ha un pretesto per raccontare delle storie, come per gli stivali di Yves Saint Laurent. Per Yves Saint Laurent abbiamo lavorato per 38 anni e siamo particolarmente fieri di questo, soprattutto di aver lavorato durante gli anni 70 con lui, in un momento in cui Yves Saint Laurent si impadronisce di elementi del guardaroba maschile, come lo smoking, il tagliere pantalone, la sariana e soprattutto lo stivale, che era prerogativa solo degli uomini e delle donne di malaffare, e li dona alle donne in un momento di lotte per l'emancipazione femminile. Tanto che si dice che Yves Saint Laurent ha dato il coraggio alle donne in questo modo, come invece Coco Chanel gli aveva donato la libertà togliendogli il busto. La storia della Rossi Moda inizia nel 1947, quando Narciso Rossi inizia a produrre calzature in proprio. La grande svolta arriverà con il figlio Luigino, che diventerà l'artefice di un successo planetario, trasformando la Rossi Moda nella produttrice delle calzature d'alta moda femminili firmate dai più grandi stilisti internazionali. A ricordare gli inizi come venditore è la figlia Cristina, direttrice della villa. Nel dopoguerra il commerciale non era altro che prendere un motorino, caricare dei pacchi con delle scarpe e girare un po' per tutto il Veneto e il Polesine per vendere questi prodotti fatti e confezionati manualmente. La sua idea è stata poi quella di provare, osare, andare fuori dall'Italia, e un po' per fortuna e un po' per il suo modo di essere, molto aperto e non dire mai di no a tutte le opportunità, si è trovato nel posto giusto, nel momento giusto. Il posto giusto era Parigi, il momento giusto era quello in cui a inizio anni 60 Luigino per un caso fortuito incontrerà Roland Jourdan, avviando la prima grande collaborazione con Dior e poi a seguire quelle con altre prestigiose griffe. Il museo oggi non vuole essere però solo una teca dei ricordi, tutt'altro. Ai percorsi didattici e le visite guidate si affianca infatti la creazione ancora in corso di un archivio digitale che conta già oltre 15.000 modelli, fonte inesauribile di ispirazione per le nuove collezioni.